musica 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 eccoci buon love... buon love fire ma che sententami incazzo premade versus pug e la blizzard matchmaking si perchè praticamente loro sono tutti un premade e noi siamo dei pezzi di merda oh Allora partiamo subito con il talento che si è detto subito nel video precedente, siamo alla Contea del Drago perciò io andrò chiaramente con Sony, no dimmi che non l'ha fatto, che non l'ha fatto, non ha ancora piccato nulla di talento, io tutte le volte vedo questa cazzo di impianti contro zombie, che coglioni, c'è sempre questo, c'è sempre questo, oh Kill, bravi, chi c'è, è forte, ah che riga, vabbè la fiera del grab eh, vai 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 picchiami picchiami tranquilli, fa il vizio fa male quella roba lì, ma scusa non l'avevi colpita io non ho visto t'anni però, con la S, ma stai scherzando, che co, canta una canzone, compra una vocale, gira la ruota, il loro team, mi ricorda il brand del servito, io no, io vi ricordo la sigla, ma non mi ricordo assolutamente di che cazzo parlava questa, era un programma, era un programma che faceva mengachi, guarda che questa è una combo della madonna, cioè lui ti scuda mentre ti ti curi, mamma, niente, ti piacerebbe il globetto, il globetto, il globetto, ah la W, la W ovviamente la puoi fare anche su emigna, chiaro si, soprattutto sonia vuole difendere il cancello si, che cazzo fa, sonia? ha voluto fare una girata ho fatto un ruttino io si, praticamente ogniciv quando hai il talento, che la lipi ha aumentato il 20% il abilità, ogni volta che tu fai il ciclo, sono distratto dal bicchiere, ma ci va a vedere Heisenberg, sei Mediv di Hokai, grazie. Non lo stanno facendo, hanno paura, hanno paura, prendila, 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 la sagra del miss grave, il festival del pantù, prendi il club troppo, Mediv sta facendo la support, ma di bene il fucking support, il funk erogio va bene, Dio di dio visto che nessuno è in grado, oh yeah oh yeah, mangio, 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 grappati, ma dai, sai chi è che è vivo, non te, no non te, non te, non te, non te, E' proprio stimedip con gli spugni, si stimedip quindi sta, no no non lo sta, si fa, è vero, bravo, 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 bravo anche questo spigio e io mi porto a casa da qui, è stata Kerrigan eh, bravo Kerrigan, era grabata in area, e questo, vivo vivo, vivo lo zibi, corri corri, no, è una spugna, una volta tanto che quella spugna, no, 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 si si guarda, mi sbatto le palle nel bizza, sei scullato, vai prendi il coso Ale, ah no, ci è già andato tira giù il calcello fai sottotò arrivo la testa di geo eccoli eccoli buongiorno questo è il testo di geo va se ci fosse la lo fai la tua anima è mia cosa che? cooldown che fa la tua anima è mia lo lasci stare bravo camminaci sopra oh no oh no eravamo 3 contro 2 potevano anche venire non avevano vita no non c'avevi cosa che faceva lo scudo finita la magia dove va lo lì più che altro dobbiamo tenere la pressione di sotto perchè attualmente lui sta piccando i niente sta piccando gli eroi con la pianta e noi teneremo la pressione di sotto così facciamo l'esperienza invece lui sta scappando con la pianta per picchiare gli eroi rottezenis sta morendo complimenti quel distributore di mutande cloaca me ne prende degli schiaffi non male donna nana tutta tana donna vulva tutta vulva nooo non l'ho mai sentita faceva la schifo ma che bellissima la spamman ovviamente per lo quelli non c'è nessuno che cura c'è nessuno che cura il nostro team ovviamente usa tap ti curi da solo di che tiramenti? infatti di che sto parlando? non fa praticamente danni dai sui no è andato in ritardo no è andato in ritardo oh nooo bello brava 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 giaina giaina pesciolini ora insessi tanto ecco grassone insessi tanto c'è anche mediv c'è anche mediv oddio mediv ma perchè nessuno si sopraffrende? col mi sta secondo me l'uccelinone vuol di nulla perchè? perchè? io ci vado eh perchè no? nooo che brutta idea non è che ritorni indietro subito che è sto casino? ma che è sto casino? oh mangelo 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 lo sto mangiando quanto sono fatto? dai tu dove sei apparso? che dolore sdefanza 3 contro 5 di cristo ho capito ma siamo morti in 3 ah questa si che sta facendo? l'hard da solo questo che sta facendo? è arrivato tardi sta facendo i miss grab lui ha missato il grab? no hai visto un grab fatto bene questa partita? no ecco solo uno l'ha fatto bene che era quello da point blank l'ha fatto il grab utile vieni ti tiro sul cancello dove sei già grazie ha preso il campus guarda che culo guarda quanto è rimasto nooo è rimasto bloccato morto a meno che non lo scudi morto morto ma che fa da sola? ma perchè da sola? sei da sola puttana ma vai via almeno heisenberg providenziale e tutte vanno a male sei un po' esaginante quella che fai i ghiaccioli a caso perchè sei orbo? perchè è arrivato è arrivata la notte un teleordine un meccanico hai visto solo questa mappa tipo si esatto hai solo avuto questa mappa qua allora non siamo messi male però se smettessero di andare uno contro cinquanta non farebbe schifo ah dai da sola eh? ma la picchi? se non mi fa un cazzo non mi fa non ci avete capito perchè sei andato lì? ci stava bene si vede sopra e sopra e sopra gli danni una a quegli altri fagli la paura fagli la paura buuuu 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 tranquilla fammela ma entragli in culo brutto cicciolo mamma mia è bravo a fare gli scudi ma fa danno o non ha paura? guarda regna il terrone Napoli aspetta fa danno è un danno però noi andiamo qua andiamo qua che sono sono i dig down abbiamo il 10 il candy diaz ooooh 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 no l'ha sposati ma che ha messo in stasi? eeeh ma chi è che l'ha messo in stasi? che sto schifo ma quel down di merda l'hai messo in stasi cioè l'hai messo in stasi quando lo sparite tutti e ci veniva in faccia? non ci vuol credere e di te tutti ci stanno a venire tutti in faccia presto avrei bisogno altro succo di limone hhah guarda questo è lo scontro degli imbecilli dai mammazzalo DAIIII solo su falli cartellino cioè eravamo in vantaggio e lui li ha salvati con la stagia è bello ha preso il minion visto ce l'ha fatta per dimostrare che anche lui sa fare qualcosa ehhh dovessi andare in botta che delusione ma perchè? ma ne prendiamo uno che fanno schifo diome esce e vai e torna indietro e ora la carrikan parte va in base anche lui ha detto che ne capiva ooooo hai quasi l'ultra ahia carrikan carrikan lì ci cammina sopra ma sono due imbecini stanno vicini così si fanno entrati ma che cazzo non è utile che mi picchi io ti spacco ma ora sono una pianta di merda ti spacco ehhh stai un po' esagerando tesi vai ora stai esagerando io ciao ciao dovevi andartene prima ho capito ma ci sono gli sceme più scemo che muoiono come gli scemi anche te però i sceme più scemo 40 scemo ehi questo che grabba a caso due livelli sopra loro ma va la ce la fanno ce la fanno allora vince si ce la vado appena di da fianco dei no ma non c'è non vanno neanche solo sulla pianta non vanno per sicurezza su ragazzi viva vabbè li schiccio la terra ah li ha bloccati in stasi che culo l'avessi fatto un attimino prima poco prima la pianta tanto ormai è finita puoi succiare evitando sbubbione certo che posso succiare sbubbione prezzo è pieno sbubbione è esploso andatevi a fare il limbo il bossettino cammina lì vai ma che case era ma hanno mangiato ma che fastidio vabbè tanto c'è però mi mangi e rimane lì va bene uguale cioè non gioco più lì tanto attento niente niente i mago cozzi va bene bastarda i mago cozzi dai a correre quella direzione dai dai che riga fai schifo al maiale come si fa a fare così cacare ma in culo bastardo nooo 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 vedi non facemi vivere nooo non me li tanco globo globo come stai male gli mangio la vita mangiagli la vita mangiagli la vita mangiagli mangiagli quanto sicuro dai boss bot no boss bot ale fast fast non ci possono già anche lì sono io ma dal 92 ci sono lì c'è la coda c'è la coda c'è la coda al casello dai bello 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 mi ha tirato l'unico che mi poteva ammazzare in faccia no ma poi c'è tipo lei l'ha stunnato e l'altro l'ha grabato si si è chiaro c'è la saluta da mcdonald proprio oh my god dai dai oh dai che stanno tutti un male come in un male stasi mentre stava frullando la vichinga oh ma che banda di handicappare can you stop to stasis 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 can you stop to stasis bello spirgo sporgo si vuole vedere l'azione per favore luce stasi è random mi piace guardi ma parla che inglese di merda oltre can you stop to use stasi a random ne for pleaserino no 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 ne no coppia pasta rino ne ne shes ne n l'antica la parte mia indietro un po' vai dirgli dai sei su scherzi a parte segui fuori ai cantatini no 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 anche te cinti dai e basta fammi mangiare ma dov'è mio di te anche candidiat dai scappa e su scriviti qualcosa al mio consiglio portano d'artilus guarda dai vintelo 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 sono tutti morti perchè ovviamente come sono morti gli altri distenti credo gastrite gastone ma perchè il tuo condizionatore non condiziona? com'è che sono i prima danni eroi? qui frulla in mezzo di lui è ultimo that's the t uuuu non capisco ma eseguo fuori fuori c'è ti ha riportato perchè gli hai detto di non usare la ulti a random e di guardaci certo vai lo sai che è vero che se ti mandano effettivamente uno strike ti fai vedere il video a quelli della blizzard come contestazione? eh oh si fa subito prima ancora di iniziare sonia salvami si sonia bello quel grab strano oh di ok il grab che fa a caso eh era un grab modo i quei erano quei erano quei erano un grab modo eh un grab di merda scappone un grab a caso era no un grab no bella quella che sta succedendo? cassino eh lo sto facendo gazebo che ti chiude le rane diventano grossi nooo ma che rane gigante ma che danni fanno a zibo adesso? gazebo please che cazzo con che cazzo è morto? col ranone capito 490 danni di rane ecco accanto che ragno attacco base ok le rane per due? morco due per due lo stesso secondo anzi lo stesso frazione di secondo rana per due le barre sopra ho fatto 1400 danni di rane l'ho fatto no riprendi un attimo tab riprendi tab le parti rosse e verdi sarebbero che cosa? il danno che ti tolgo quanta vita hai? è il danno che ti tolgo? la tua vita quella verde è la vita che hai? cioè quella blu è la tua vita totale salute barra modificato percentuale vuol dire che per un attimo ripresa quanta vita perdi in percentuale e quindi quanta negua? quanti pesci perdi in percentuale tanti cioè è buona comunque come statistica se tutti ce ne andiamo o che facciamo poi che cazzo è questo? ah il case bello un manuale di case ah no come vedo il case lì? quale è il case? quello è la francesca qual è? non c'è qui in questa casa non è in questa casa non è in questa casa non è in questa casa questa casa è fallito no mi vede? fermo fatto il cazzo tu di minuti sto guardando la merda ah lo sai perché non funziona il condizionatore così come adesso? eh? per il succo di limone non avevo caldo prima c'era qualcosa caldo lei aveva la tua faccia dare le mie braccia con il bravo è un figo è bellissimo non c'ho letto il cd ma tante noti nel 2016 si infatti che ho ancora usato tutto il cittino faccia di merda vai 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 ha fatto anche un grab noooi dio dio nooo ma l'hai visto? nooo è mangiato è cotto e mangiato non è un full tower no è un mid tower il portale no no le dani no che di fretta c'è scusami full tower sono i colossi dark steel c'è ah ok quelli che anche dentro ci metti una scheda madre che ha anche boh 3 4 PCI Express in più che non userei mai no che c'entra anche lì ci sono 3 mentre è un mid tower anche quello anche quello che c'è ma che ci fai la nostra pianta qui che l'abbiamo tenuti tutti qua apposta dio handicappata fa danni si danni a noi però il problema è quello fai dei danni a noi e te lo passano e io sono morto perchè vaffanculo comunque l'antibolivi sta distruggendo ma capito ma che cazzo ci fa la pianta qua ma come muore è l'unica che sopravvive e se ne va e no eh e si e no e no perchè ci torna c'è una parola e ci dai mi di che ci dici li tenevamo qua in toppo andavate che fa no no si segui che fa per favore schifo brava bel miss ecco vai ciao buonanotte ma chi c'è andata a morire che fanno cacara il cazzo stai puoi fare no che fai stai a fare così schifo eh ehhh porca puttana sembrano un sacco di darti sembrano ahahahahahahahahahahahahahahahahahah un assassin non è un vero assassin l'ho già detto mi spiace ripetervelo non è troppo del cazzo di rani quando fanno male si deve ragazzo non è una busta dell'umido non è una busta dell'umido è letteralmente dell'umido va in giro con cadaveri ma guarda le spacco dei calcelli can di dio se non ci fai i telli io non ci vado bravo l'hai capito l'hai capito non ci devi andare in mezzo al patto l'esercito talento dai talento che ti salva la vita ciao io vi piscio ma proprio non ci penso guarda mi metto qua mi metto gli estasi oddio oddio l'ho presa no ma ho mangiato ma 3 3 3 fermo da zibo nazibo 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 troppi danni nazibo piaga di rospi sempre quelli fai dei danni che ti ha fatto adesso? ho almeno fatto una kill guarda piaga di rospi guarda per 2 no a sinistra anche a sinistra 1080 è sbloccato nazibo è sbloccato nazibo ci può fare la rospi o la nuova scada vita dell'invidia è la 1080 di rospi di rospi di rospi di rospi tanto non lo sai che è stupenda quella scada vita invulnerabile ma più che altro sonia entra giustamente e stunna tutti io mi metto a fare danno basta stasi giusto stasi no stavolta potremmo farcela perchè i poverini dopo si fanno male c'è verso non c'è a te sei morto la verità un moncho bishottato da nazibo c'è io vivi vivi pa 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 pa